Canale navigabile trattato come una discarica dove chiunque si permette di gettare qualunque tipo di rifiuto, dalla plastica alla carta ai copertoni delle automobili. L'erba cresciuta sulle rive, lo segnala Adelaide Leucci di Spinadesco, è stata sì tagliata ma smaltita non tra le fiamme della centrale a biomasse, bensì all'interno dello stesso corso d'acqua che doveva rappresentare tra Cremona e Milano l'alternativa ecologica alla gomma e invece si è fermato a Pizzighettone. E dire che si tratta del Viale Europa che da Cremona prosegue a Spinadesco dove il ponte è diventato ricettacolo di rifiuti e ritrovo per falò improvvisati, ormai vietati dalla legge perché inquinanti. Si aggiungono persone che abbandonano selvaggiamente immondizie a cielo aperto, c'è chi getta il cartone della pizza dal finestrino dell'auto in corsa e chi dissemina sacchi neri, scattolette o bottiglie vuote mentre i cartelli dell'Aipo l'agenzia interregionale del Po emettono divieti inascoltati. In alcuni casi persino la segnaletica è stata divelta e i supporti metallici rimangono come totem esposti allo sguardo dei passanti. Scritte di ogni genere ricoprono i piloni portanti del ponte. I vigili urbani di Cremona sul lato di Viariglio, dalla parte dell'oleificio, hanno dovuto vietare l'accesso alle rive con una sbarra. Alcuni però si sono inoltrati ugualmente gettando rifiuti di plastica, anche se in quantità minore che in passato, quando intere cantine venivano svuotate sotto il ponte. Il degrado rimane diffuso e generalizzato nella zona a ridosso dell'area industriale. Malgrado le profonde trasformazioni subite nel corso dei decenni, il territorio è e rimane come un tempo caro ai cittadini, frequentato da sportivi e cultori dalla natura alla ricerca di pace e di silenzio.